quattro lean presenta il miglior carrello porta pallets attualmente disponibile sul mercato attenzione alle copie apprezziamo la copia perché dimostra che facciamo un buon lavoro ma conosci l'utilizzo di ogni componente che compone il nostro carrello sempre acquistare l'originale quattro len i nostri porta pallet sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente mostreremo alcune delle personalizzazioni disponibili differenti configurazioni geometriche sono possibili come diamante quadrato sollevabile e ribassato il carrello porta pallet può essere dimensionato per tipi di pallet euro pallet pallet americano misure personalizzabili i carrelli possono essere realizzati con profili diversi a seconda del peso e della sua distribuzione la quantità di guide per pallet può essere 4 o 6 dipende dal carico e dal fattore di sicurezza richiesto dal cliente il carrello può essere dimensionato con altezza normale o altezze personalizzabili in base all'ergonomia le ruote sono avvitate per facilitare la manutenzione con cuscinetti e rivestimenti appositi pensati per l'ergonomia consentendo di spostare fino a 1300 kg con uno sforzo iniziale di 150 newtons le ruote possono essere configurate in diverse forme come diamante quadrata rettangolare tra le altre il freno può essere utilizzato per garantire la sicurezza dell'operatore due tipi di maniglie standard dritta inclinata il freno impedisce al carrello di muoversi durante il carico e lo scarico per una questione di sicurezza il timone e i perli sono dimensionati in base alla configurazione del treno logistico il carrello è dotato di guide per essere sullevato utilizzando transpallete carrelli elevatori attenzione alle copie apprezziamo la copia perché dimostra che facciamo un buon lavoro ma conosci l'utilizzo di ogni componente che compone il nostro carrello sempre acquistare l'originale 4 len grazie